fatima 13 settembre 1917 dal memoriale di suor lucia che cosa vuole da me vostra grazia chiede lucia voglio che continuate a recitare il rosario al fine di ottenere la fine della guerra in ottobre nostro signore verrà così come anche nostra signora dolorata e del carmelo e san giuseppe con il bambino gesù per benedire il mondo dio è soddisfatto dei vostri sacrifici ma non vuole che dormiate con la corda portatela solo di giorno c'è qui questa piccolina che è sordomuta vostra grazia non vorrebbe guarirla nostra signora rispose che fra un anno sarà migliorata o ancora tante altre richieste le une per una conversione le altre per una guarigione ne guarirò alcuni ma gli altri no perché nostro signore non si fida di loro alla gente piacerebbe molto avere qui una cappella con metà del denaro ricevuto fino ad oggi si facciano delle barelle da processione e le si porti alla festa di nostra signora del rosario l'altra metà si è destinata per aiutare la costruzione della cappella mi hanno dato questo vostra grazia lo vuole riferendosi ad una boccetta di acqua profumata donata da un uomo ciò non è adatto al cielo rispose nostra signora in ottobre farò il miracolo affinché tutti credano poi cominciò ad inalzarsi scomparendo come le altre volte in ottobre farò il miracolo